mi sa ci tante banane? io sto facendo adesso senta la mia cosa mamma quanto è bella speriamo che mettere i sentimenti alla gente alla gente ma cacchie se faccio qui? si ma cacchie se faccio qui? si di Pietro Luca di Enzo di Pietro Mauro con Nicola nel quarto mistero della gloria noi terminiamo la sospensione di Maria Santissima al cielo no amore non so non so non so si no 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 Grazie